Da Quarrata una promessa per il motociclismo, Lorenzo Somma arriva, 23 anni, dalla piscina alla pista. Fino a 15 anni Lorenzo pratica il nuoto agonistico, poi a 16 la sua passione cambia, si infila il casco e debutta con una Yamaha 300 nel campionato nazionale velocità, ottenendo fin da subito ottimi risultati. Nel 2019 passa a cilindrata maggiore, ottenendo la vittoria nella sua prima gara sul circuito internazionale di Misano Adriatico. Attualmente corre con una a 660 nel trofeo monomarca Aprilia Cup. Ovviamente all'inizio, non avendo mai fatto niente, non avendo neanche un bagaglio di esperienze è stato molto difficile. L'inizio è stato molto dura e ogni weekend era tutto un imparare dagli avversari. Quando mi sorpassavano in pista ero subito a cercare di copiare quelli che facevano loro per cercare di farlo io. Terzo anno sono riuscito a fare il primo podio sull'acqua al Mugello. Felicissimi tutta la famiglia, mio padre, mio fratello che mi seguono sempre. Quindi eravamo veramente emozionati e poi da lì, quindi il terzo anno di gara in pratica ho iniziato ad avere i primi risultati importanti. Quindi terzo posto a Mugello, il secondo posto sempre a Misano l'ultima gara sull'asciuto stavolta. Ho iniziato a capire che potevo iniziare veramente a fare il pilota dal terzo anno di gara e ho iniziato a girare forte. L'ultima vittoria sul difficile tracciato del Mugello. Il Mugello è una pista veramente, penso, come dicono anche tutti gli altri piloti, una delle piste più belle del mondo. Quindi io purtroppo ho girato solo in Italia, però ecco chi fa il mondiale dice che il Mugello è una delle piste più belle. E ovviamente io la sento anche un po' di più perché è la pista di casa in pratica, perché abito a mezz'ora da Mugello. Quindi quando vado là c'ho sempre tutti i miei amici che mi vengono a vedere. Quindi insomma fare un bel risultato è sempre importante. E poi prediligo sempre anche una guida abbastanza pulita. Io perché sono uno che guida molto pulito, non sono uno guido sporco. Quindi ecco, questo tipo di guida a Mugello paga tanto. Lorenzo, tanto impegno e tanta passione, ma dove vuoi arrivare? Il sogno sportivo è ovviamente quello di correre MotoGP, che è il sogno, penso, di tutti i piloti che iniziano a praticare questo sport. Quindi sicuramente è quello di correre MotoGP e far diventare questo sport bellissimo il mio lavoro.